io vedo che hai imparato molto da lui dai lui è tra su e basta ti attiro lo su perché basta mettilo su quest'asso qua poncelo qua che lo taglia poncelo lì taglialo dai mettilo qua ti dia se l'estruo taglia questo video qua ci viene anche la protezione civile non lo puoi alzare guarda che è forte bravo è vero su quello non si discute il mago non andrà benissimo in moto ma se c'hai da fare qualche lavoro strano la costruzione dei menhir dei dolmen esatto peccato che sei fermato proprio in cima alla rampa porca miseria eravamo arrivati su ha ceduto proprio all'ultimo vedi che lo sapevo che lo tirava via perché non lo fa lui lo sapevo ma ci avrai scommesso lascialo stare quel coso era già lì pronto non riuscivamo adesso si c'era la riga adesso vedrete la riga avanti come cazzo sarà bello